Ciao, questo video ti mostrerà come registrare i messaggi sul tuo orologio Talking Nadi. Ogni messaggio personalizzato può avere una durata massima di 15 secondi. Se non vengono registrati messaggi personali per nessuna delle sveglie selezionate e se non è stato impostato un orario per quella sveglia, la modalità predefinita per il suono della sveglia sarà Tune. Far scorrere il selettore Mode su Prog. Assicurarsi che il pulsante Mute, Tune, Voice sia posizionato su Voice, Voce. Scorrere il selettore Allarm fino a selezionare la sveglia che si desidera impostare, dalla numero 1 alla numero 8. Tenere premuto il tasto Record per registrare il messaggio. Un beep indicherà che la registrazione è iniziata. È importante parlare al microfono in modo chiaro. Per fare ciò, suggeriamo di parlare ad una distanza di circa 15 cm dal microfono. Rilasciare il pulsante Record una volta terminata la registrazione del messaggio. Un beep indicherà la fine della registrazione. Premere il tasto Play per ascoltare il messaggio. Se non si è soddisfatti del messaggio, ripetere i passaggi illustrati nel video. Scorrere il selettore Mod su Lock e il gioco è fatto! Scorrere il messaggio. Si prega di notare che il processo di impostazione del messaggio di sveglia vocale si sviluppa in due fasi. Impostazione dell'ora della sveglia e registrazione del messaggio, in qualsiasi ordine. Grazie per aver guardato questo video tutorial. Ci auguriamo che sia stato utile. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web all'indirizzo www.orcaproducts.com